Ciao a tutti, video su what a la spesa, è da tantissimo che non faccio questo genere di video e ho perso lo scontrino, cioè l'ho perso, non so dove l'ho messo, quindi non vi dirò i prezzi e ora vi faccio vedere cosa abbiamo preso croccantini per i gatti, poi un pacco di carteggianica, poi due pacchetti di questi crollini al farro con le gocce di cioccolato che sono buonissimi, poi questi yogurt della soia san, mandorle nocciole e cioccolato, poi abbiamo preso cinque pacchetti di queste patate cotte al vapore e sono buonissime, io le faccio al forno e poi le condisco con olio e sale poi verdure in pastella, due pacchi, poi yogurt bianco, sempre della soia san, poi sottilezze vegetali, poi salamini piccanti, questo affettato vegetariano, tipo mortadella, poi abbiamo preso questa tè, zero, sia al limone che alla pesca, poi gassosa, zero, e questa passata di pomodori, poi philadelphia light, poi qui c'è del pesce, questo cos'è? strisce di totano e qui credo siano vongole. poi questa zuppa pronta con orzo, farro e legumi, poi vellutata di porcini e castagne, poi questi cannoli con crema al cacao nocciole, poi questa bevanda, insomma latte di mandorle, poi castagne, poi castagne, io amo le castagne, se c'è una cosa positiva dell'autunno sono le castagne, poi queste fette di formaggio, bag, sono buonissime, se le trovate ve le consiglio, poi ho preso delle mele, poi un'altra zuppa pronta, questa è una zuppa di ceci, poi prosciutto cotto, allora queste, queste barrette sono la fine del mondo, veramente sono buonissime, infatti ne ho preso tre pacchetti, sono veramente buone, sono... allora ci sono arachidi, uvetta, sinceramente dell'uvetta non me ne ero accorta perché a me l'uvetta non piace, semi di zucca, mandorle, bacche di goji, e basta, sciroppo d'agave, e comunque sono buonissime, poi la glassa di aceto balsamico, besciamella di soia, poi dentifricio per Francesco da 7 a 13 anni, perché lui odia i dentifrici che stanno troppo di menta, troppo forti, e poi dentifricio, questo qui colgate, max white, e basta, questo è quanto, e niente, grazie di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!